Mi è caduto uno Ormai ti ho preso il canale Non è mio il canale Ormai ti ho preso Ciao a tutti ragazzi Ormai mi ha preso il canale sto qua Ma come si fa? Madonna Comunque Ciao a tutti ragazzi Mi ha preso il mio canale con un nuovo video E sono con Matteo Come sempre ormai Buongiorno Oggi andiamo ad assaggiare gli snack di Tiger Ci sono due ciupa ciupa Questo qua e quello alla mela Questo e quello alla fragola E poi ci sono questi due che sono Dei diamantini Però penso che c'erano la fragola e questo non lo so E questo magia Non lo so vabbè Questo qua lo prendo io Ecco la fragola come sempre Lo assaggerò anch'io come tu assaggerai questo qua Dobbiamo assaggiare le tutte e due Eh si aspetta Allora Eh è caduta la luce Problemi tecnici in corso scusate Allora con cosa vuoi iniziare? Con questi va Con i diamantini? Va bene Allora il lecca lecca li mettiamo da parte Per dopo Allora Vai Mi sa che lo c'è Vai Mi sa che lo c'è Madonna mia Mi aveva dato quello rinforzato L'ho preso Oh che carini che sono Allora dai Aspetta Togliamo la carta Anche questa è da mangiare No No qual è la plastica? Ragazzi vi piace il mio brillocco? Molto sex Eh io ce l'ho Dai Sei pronta a ciucciare? No Detto così è proprio brutto ragazzi Però dai Proviamo vai Ma è buono Non capisco di che cosa sa Però è buono Questo qua secondo me è alla ciliega No sa già il mio Fammi assaggiare il tuo Vai Vai Questo qua è alla mela Ma non è alla mela quello Allora perché c'è una mela Perché quello è alla mela Che quello è scritto Qua no Questo è alla fragola Sicura? Sì sì A parte che ci dovrebbe essere scritto Blue e berry No Non lo so Questo è alla fragola Perché c'è scritto Strawberry Allora voi che siete bravi d'inglese Blue e berry che cos'è? Fammi non riassaggiare Non tieniti la fragola È fragola Questa non è ciliegia Non lo so Non capisco Ma forse è mirtillo Non lo so Vabbè comunque è buono Ci può stare Ciao Ciao Non ti piace questo? No no lascialo lì Quello c'ha delle palli Vado a mangiarlo Allora niente Ok Molto buono questo Non sappiamo Non so che cosa di gusto sia Vabbè le rimettiamo dentro qua Perché è quasi ora di pranzo E poi andiamo a mangiare Adesso In piano questo qua Dammi le qua Queste qua Da quanto ho capito È un lecca lecca a forma di piede Però dentro Ci sono dei Dei zuccherini Che bisogna Inciupare Inciupa ciupa Da quanto ho capito Perciò piano Ad aprirlo Questo qua Prima che fai casino Allora Vediamo Cioè come dico io Eh sì Questi Oh che carino No Allora questo è Alla mela è mio Giusto? No la mela è mio Vuoi tu la mela? E questa è la fragole Ed è uguale così Sono molto carine Queste confezioni però Con i Con i Allora Come sempre Mettiamo via questo Allora tu quale vuoi? Madonna che odore Di zuccherini Allora tu quale vuoi? Fraga la mela Allora No Piano Mettilo qua Prendi il lecca lecca E al mio 3 Lo mettiamo in bocca Piano Eh hai fatto danno Vabbè Nascondiamo il danno 1 2 3 Vai vai Dai dai È buono È assaggianto Lo faccio prima io Come sono gli zuccherini? Molto frizzati Ok allora non lo faccio No non è buono Ma è molla? No Saggielo Sono gli zuccherini che frizzano E poi dopo che è finito con lo zucchero lo rinfili qua No 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 E via Non lo fate mai Se non lo assaggio io eh Lo assaggio tua Tu vuoi assaggiare questo? Senza lo zuccherino? No 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 scappato è fortissimo vieni qua veloce vieni qua non c'è la play questo è una fragola è molto forte è per quello c'è la mela no qui è fatto danno vabbè puliamo i trucchi ho fatto danno anch'io attenzione comunque questo è molto forte comunque poi è un semplice ciupa ciupa molto carino questo alla fragola aspetta vi faccio vedere quello alla mela la mela 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 allora questo qua lo consiglierei a tutti è buonissimo questa la mela vuoi assaggiarlo così senza i zuccherini no mentre quello la fragola è molto molto dolce poi con gli zuccherini è una bomba lui non l'ha potuto assaggiare perché caga sotto lui però io questo me lo ripuccio ancora una volta perché è molto buono mi piace buono buono allora matteo quale ti è piaciuto di più aspetta che li mostro ti è piaciuto di più il giucciotto questo o questo qui che ha la fragola a me è quello alla fragola ti è piaciuto molto a me è piaciuto molto questo qua infatti magari se li andrò a ricomprare però alla mela alla fragola no c'era anche un altro gusto mi sembra però in questo momento non mi ricordo che gusto era vabbè comunque allora questo ti è piaciuto quindi te lo regalo è tuo come no grazie si grazie io mi prendo quello blu mettetoli in bocca che facciamo la copertina ok ragazzi il video finisce qua è caduto tutto spero che questo video vi sia piaciuto degli attaggi con questo nanetto che oggi faremo un altro video che poi si ricaricherà un altro gioco allora allora spero che questo video vi sia piaciuto il nanetto non ha assaggiato tutto perché è un caga sotto si è dato solo il ciuccetto però ha detto che è buono questo qua ragazzi ve lo consiglio molto alla mela questo un po' meno perché non mi piace tantissimo a me è bruttissimo e nulla le luci cadono spero che questo video vi sia piaciuto se così lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi se siete nuovi e noi ci vediamo con il prossimo video ciao ciao ciao